La Valle del Rosello è il principale polmone verde di Sassari ma si trova in uno stato di degrado. Ce ne parla Emanuele Floris. Dagli spazi verdi agli scenari tossici. La Valle del Rosello, polmone verde cittadino, è in stato di abbandono. Tra siringhe, fazzoletti intrisi di sangue, lattine per farsi di crack, spazzatura. Gli abitanti chiedono un intervento. Abbiamo bisogno di un supporto perché c'è bisogno di pulizia, bonifica, più controllo e soprattutto il controllo notturno perché qua è fuori controllo la situazione. Diversi gli episodi in cui alcuni sconosciuti hanno provato a introdursi nelle proprietà altrui, inclusi gli appartamenti. E oltre al recupero dell'aria si chiede più controllo come farà un consigliere comunale con una prossima mozione. Possa essere messa in sicurezza attraverso una bonifica, messa in sicurezza appunto, illuminazione, videosorveglianza e chiusure programmate. Questa è quella che chiede una mozione, spero che possa essere accolta da tutta la municipalità perché questo è quello che chiedono i cittadini. Ci si appella allora alle istituzioni perché si riconifichi una zona che appartiene a tutta la città. Abbiamo tanti accessi alle vie in questa vallata da Murineddu, da dove può arrivare la gente del centro storico. Dal Monte Rosello arrivano da via Palmaera, da Sacro Cuore, abbiamo tanti accessi, quindi tanta gente, tanti quartieri potrebbero giovare di questa area verde qua.